Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia e per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico sostanzialmente regolare su tutta la rete autostradale toscana in Fipili, da segnalare solamente alcuni cantieri sulle vie principali, ad esempio sulla statale 1 Aurelia dove è in vigore uno scambio di carreggiata tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Follonica Est in entrata e in uscita in direzione nord. Sulle raccorde Bettolle-Perugia scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Poiano della Chiana in entrate in uscita verso Bettolle. Sulla statale 3B Settiberina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Pieve-Santo Stefano Sud in entrate in uscita in direzione orte. Chiudiamo con la viabilità della città di Firenze e possibili disagio a causa della chiusura di via Francesco Veracini con blocco temporaneo della circolazione. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!